La prima apparizione della bestia, come sarebbe poi stata chiamata, risale al marzo del 1764, nei pressi del villaggio di Langogne, nella regione del Gévaudan, lingua d'oca nel sud della Francia. Una giovane pastorella, mentre sorvegliava il suo greggio di buoi, fu improvvisamente assalita da una creatura mostruosa che mise in fuga i cani. A salvarla furono proprio i buoi, che proteggendo le loro compagne, si scagliarono contro l'aggressore e lo costrinsero alla ritirata. Tornata al villaggio, la ragazza raccontò l'accaduto, descrivendo l'animale come un enorme lupo con una coda insolita e un pelo nero e rossiccio. Nessuno aveva mai visto un animale con tali caratteristiche e la sua testimonianza fu accolta con scetticismo. Il 30 giugno dello stesso anno, un'altra giovane, la quattordicenne Jeanne Boulay, fu attaccata dalla stessa misteriosa bestia. Purtroppo, Jeanne non ebbe la stessa fortuna e il suo corpo, mutilato, sgozzato e parzialmente divorato, fu rinvenuto in un campo. Sebbene l'episodio fosse drammatico, non suscitò particolare scalpore inizialmente, poiché gli attacchi dei lupi erano comuni nella zona. Questi due eventi furono solo l'inizio di una lunga serie di aggressioni che, in poche settimane, seminò il panico nella regione. Successivamente, la bestia uccise una quindicenne, un ragazzo della stessa età, una donna e due bambini. Nell'agosto dello stesso anno, una giovane sopravvisse miracolosamente all'attacco della creatura, descrivendola come significativamente più grande di un normale lupo. La bestia operava in un'area di circa 90 chilometri di raggio, ma sempre confinata nella regione del Jevodan. Nel corso di circa tre anni, secondo i documenti dell'epoca, la bestia aggredì circa 240 persone, per lo più donne e bambini, che sembravano essere le sue prede preferite. Più di un terzo delle vittime morì a causa degli attacchi, mentre gli altri sopravvissero con ferite fisiche e, soprattutto, psicologiche. La bestia usava sempre la stessa modalità omicida. Sgozzava e straziava le sue vittime, per poi divorarle parzialmente. Gli archivi parrocchiali parlavano di corpi dilaniati da enormi zanne. I sopravvissuti descrivevano la bestia come un gigantesco canide che attaccava da solo e in pieno giorno, un comportamento insolito per un lupo che di solito caccia in branco. Gli abitanti dei villaggi, preoccupati per la sicurezza, avevano smesso di permettere a donne e ragazzi di uscire da soli e li accompagnavano con uomini armati di randelli e forconi. Poiché molti uomini erano impegnati nei lavori agricoli, questa protezione non era sempre possibile. Per cercare di fermare la bestia, l'amministratore della diocesi di Mende, Etienne Lafon, organizzò diverse battute di caccia, ma senza successo. Il misterioso animale continuava a trovare le sue vittime senza essere mai catturato. L'abate Pierre Purch, al termine della sua indagine, osservò «Tutti coloro che hanno visto l'animale hanno detto che non era un lupo. Tutti quelli che non l'hanno visto, a causa del buio o perché colti di sorpresa, hanno detto che lo era. Le varie descrizioni della bestia non si accordavano fra loro, e spesso la fantasia prevaleva sulla realtà. La superstizione aveva preso piede fra gli abitanti, che additavano persino il demonio come responsabile di tali eventi, mentre molti credevano che la bestia fosse un castigo divino per le colpe della popolazione, un'opinione piuttosto comune in caso di calamità. In risposta a questa situazione, il vescovo di Mende invocò preghiera e penitenza, ma la speranza che questa soluzione potesse funzionare si rivelò vana. La font, rendendosi conto che i semplici cacciatori e i volontari non erano sufficienti a fronteggiare il mostro, si rivolse al conte di Montcane, governatore della lingua d'oca, che a sua volta chiese consiglio a Parigi. Di fronte all'urgenza della situazione, il re Luigi XV decise di intervenire personalmente, inviando un'unità di 57 dragoni comandata dal capitano Jean Boulanger du Hamel. La strategia del capitano era chiara, cacciare e abbattere tutti i lupi nell'area degli attacchi. La campagna di sterminio fu meticolosa e decine di lupi furono uccisi, ma gli attacchi continuavano. Du Hamel, rispondendo direttamente al re, tentò ogni misura possibile, disseminò i boschi di carcasse avvelenate e fece travestire i suoi soldati più coraggiosi da donne, per attirare l'attenzione della bestia, ma senza ottenere risultati concreti. Il 5 ottobre 1764, la bestia fu finalmente avvistata presso il castello di Basset, mentre stava per attaccare un pastorello. Colpita da alcuni colpi di fucile, l'animale riuscì a sollevarsi e ad allontanarsi zoppicando. I soldati del capitano Du Hamel si misero immediatamente alla ricerca dell'animale ferito, ma senza successo. Ancora una volta la bestia riuscì a dileguarsi e due giorni dopo fu trovata nelle vicinanze l'ennesima vittima, decapitata. La testa fu rinvenuta solo la settimana successiva. L'abilità della bestia e l'incapacità di soldati e cacciatori contribuirono a diffondere fra la gente l'idea che l'animale fosse un essere soprannaturale. Du Hamel riteneva che si trattasse di un ibrido, simile a un lupo ma delle dimensioni di un vitello. Nel gennaio del 1765 un gruppo di pastorelli fu aggredito. La bestia riuscì a catturare uno dei bambini, Joseph Panafieu, e a trascinarlo via. Gli altri, terrorizzati, inizialmente tentarono di fuggire, ma furono incoraggiati da Jacques-André Portfait a tornare indietro e aiutare il loro compagno. Armati di bastoni, i pastorelli riuscirono a scacciare l'animale e a salvare Joseph. Portfait fu acclamato come eroe dai villaggi circostanti e ricevette persino un premio dal re Luigi XV, che stava cominciando a prendere sul serio il problema del Gévaudan. Nonostante ciò, gli attacchi della bestia non diminuirono, anzi, divennero più frequenti e audaci. L'animale non si limitava più ad aggredire persone isolate, ma iniziava a spostarsi verso i villaggi, avvicinandosi persino alle abitazioni. In uno degli episodi più drammatici, avvenuto nel marzo del 1765, la bestia penetrò nel cortile di una casa e attaccò una bambina. Sua madre, Jeanne Jouve, accorse in soccorso al sentire le urla della figlia, ma l'animale afferrò anche il fratellino, Jean-Pierre, di sei anni. Jeanne si lanciò sull'animale per salvare il piccolo, ma fu graffiata e morsa. Solo l'arrivo dei figli maggiori riuscì a far fuggire la belva. Come riconoscimento per il suo atto eroico, Luigi XV assegnò a Jeanne una ricompensa di 300 lire, ma il piccolo Jean-Pierre morì cinque giorni dopo a causa delle ferite riportate. Ormai la gente non si sentiva più al sicuro nemmeno fra le mura delle proprie case. A questo si aggiunse il crescente malcontento verso i soldati del re, che non solo non avevano mai ricevuto vitto e alloggio durante il loro soggiorno, ma avevano anche danneggiato i raccolti con le loro inefficaci battute di caccia. Di fronte al fallimento di Duamel, re Luigi XV richiamò i soldati e decise di inviare nel Gévaudan uno dei suoi uomini più fidati. Il nobile bretone Jean-Charles Deneval, considerato il miglior cacciatore di Francia. Questo rappresentava un tentativo estremo. Un singolo esperto come Deneval avrebbe potuto fare meglio di un intero reggimento di cacciatori poco capaci. L'arrivo di Deneval fu accolto con entusiasmo dai villaggi del Gévaudan e furono organizzate numerose battute di caccia. Durante queste operazioni furono abbattuti decine di lupi innocenti. Nonostante gli sforzi del bretone, che rivendicò più volte di aver ucciso la bestia esponendone le pelli nei vari villaggi, gli attacchi continuavano e la popolazione dovette rassegnarsi a convivere con il terrore. Il numero delle vittime continuava ad aumentare al punto che il re ordinò ai curati di non registrare più i morti. Successivamente, Luigi XV esonerò Deneval dal suo incarico e inviò nel Gévaudan François d'Antoine, il gran portatore dell'archibugio del re e capo dei guardacaccia reali. Accompagnato dal figlio e da dodici dei migliori guardacaccia di Francia, d'Antoine era convinto che la bestia non fosse un comune lupo, ma piuttosto un ibrido fra due canidi. Nell'agosto del 1766, il misterioso predatore attaccò Marie-Jean Vallée, perpetua del parroco di Polac. A salvarla fu il suo istinto di sopravvivenza e un pugnale, fornito da tempo a tutti gli abitanti della regione che ne avessero fatto richiesta. Marie-Jean riuscì a ferire la bestia, che, dopo aver emesso spaventose grida di dolore, fuggì nel bosco. Oggi, una statua nel villaggio di Auvers ricorda il coraggioso episodio. La nuova aggressione, accompagnata dalla descrizione della bestia fornita da Marie-Jean, sembrava confermare la teoria di François d'Antoine sull'ibrido. Infatti, nel settembre successivo, il cacciatore avvistò un lupo di dimensioni straordinarie che riuscì a abbattere solo dopo aver sparato numerosi colpi. L'animale, lungo quasi due metri, alto 86 centimetri algarrese e pesante oltre 65 chili, fu riconosciuto da alcuni sopravvissuti come l'autore degli attacchi. D'Antoine fu acclamato come un eroe e l'agente del Jevodan festeggiò la presunta fine dell'incubo. Il cacciatore imbalsamò il lupo e lo portò al re, ma lasciò suo figlio nei boschi del Jevodan, poiché erano stati avvistati la compagna dell'animale ucciso e alcuni cuccioli. Anche questi furono successivamente cacciati e abbattuti. Luigi XV onorò d'Antoine con riconoscimenti reali e lo ricoprì di oro. La carcassa del lupo imbalsamato fu esposta al Museo Nazionale di Parigi fino all'inizio del XX secolo, quando, ormai priva del pelo, fu gettata via. Non solo il Jevodan, ma tutta la Francia tirò un sospiro di sollievo per la morte di quello che tutti chiamavano il flagello di Dio. La soluzione si rivelò illusoria. L'11 dicembre dello stesso anno la bestia tornò a colpire, uccidendo una bambina di 11 anni. Il terrore si riaccese nel Jevodan, fino all'arrivo di una figura ancora oggi avvolta nel mistero. Jean Chastel. Chastel, oste e cacciatore, aveva già partecipato a battute di caccia organizzate da D'Antoine, con cui aveva avuto scontri e accuse di sabotaggio attraverso false informazioni. In seguito, lui e i suoi figli erano stati arrestati e rilasciati solo dopo la partenza del celebre cacciatore. Partecipando alle battute di caccia successive, Chastel incontrò la bestia nel giugno del 1767. Con pallottole d'argento ricavate da medagliette della Vergine Maria, riuscì a uccidere l'animale, che si avvicinava stranamente docile. Anche questo lupo era di dimensioni gigantesche, sebbene leggermente più piccolo di quello ucciso da D'Antoine, e presentava una muscolatura anteriore deformata e una mascella molto sviluppata. Le teorie sulla natura dell'animale si moltiplicarono. La teoria prevalente era che si trattasse di un incrocio fra un cane, probabilmente un molosso, e un lupo. Altri sostenevano che l'animale fosse un lupo affetto da acromegalia, una condizione che ingrossa arti e volto, con alcuni casi documentati anche negli esseri umani. Chastel e i suoi figli imbalsamarono malamente l'animale, e lo portarono al re, che, disgustato dallo stato avanzato di decomposizione e forse poco incline a concedere una nuova ricompensa, scacciò i cacciatori e ordinò la distruzione della carcassa. Per Luigi XV, la vera bestia era stata uccisa da D'Antoine. Da quel momento, gli attacchi nel Gévaudan cessarono, e la gente del posto considerò Chastel come il vero uccisore della bestia, dedicandogli una lapide in segno di riconoscimento. Questa inquietante vicenda si concluse così, ma per molti studiosi rimane in gran parte misteriosa. Escludendo tesi soprannaturali, come quella del licantropo, basata sul fatto che Chastel usò proiettili d'argento, o di altre creature mostruose, molti aspetti di questa storia restano poco chiari. L'esistenza di lupi di dimensioni straordinarie, come quelli uccisi da D'Antoine e da Chastel, rimane poco convincente. È più probabile che si trattasse di ibridi, nati dall'incrocio fra un cane e un lupo, capaci di alimentare l'immaginario popolare. Oggi, la teoria più accettata è che il Gévaudan fosse infestato da più animali antropofagi, giganteschi canidi che cacciavano in solitudine. Pertanto, si dovrebbe parlare non di un singolo mostro, ma dei mostri del Gévaudan. Altre ipotesi, basate su testimonianze, resoconti e cronache dell'epoca, suggeriscono che la bestia non fosse un lupo, ma un animale di un'altra specie che si era improvvisamente trovato nel Gévaudan. Alcuni avanzano l'idea di una iena, mentre altri ipotizzano un leone, fuggito da un circo itinerante dell'epoca o da uno dei tanti serragli nobiliari diffusi fra gli aristocratici più eccentrici. I sopravvissuti agli attacchi descrivevano infatti un animale con il pelo corto sul corpo e più folto attorno alla testa e alla schiena. Questa ipotesi di un animale esotico apre scenari inquietanti. Si è ipotizzato che la bestia non fosse mossa dalla fame, poiché divorava solo in parte le sue vittime e preferiva dilaniarne i corpi, ma fosse addestrata da qualcuno per uccidere, forse un nobile annoiato, un serial killer protetto dal titolo aristocratico. Questa idea potrebbe essere emersa più per il malcontento popolare verso i nobili in un periodo che avrebbe presto portato alla rivoluzione francese. Il mistero rimane irrisolto e come spesso accade ha alimentato la leggenda del mostro che si fece beffe persino del re di Francia, Luigi XV.